A differenza di molti miei colleghi, non ho avuto una vita avventurosa e non ho viaggiato con frequenza. Sono stato un uomo malato che ogni tanto guariva, piuttosto che un uomo sano che talvolta cadeva. A differenza di Litz, che ha avuto molte patrie, ho dovuto fare di Parigi la mia casa, fatta eccezione per brevi viaggi nel Berlì, a Noan, in Spagna, a Mallorca, dove ho vissuto momenti drammatici, ma ho anche composto come forse mai nella mia vita. E negli ultimi anni per un infernale viaggio in Inghilterra, è divenuto presto di dominio pubblico, che mi portarono lontano da Parigi le ragioni dal cuore. La donna che amavo, con lei alla quale più di ogni altra mi sono dedicato, George Sand.